Il numero 13 Pachi Fox rimangono in 12, favori del betting per il numero 11 Piveressa Jet 2.17 Macchina che accelera, 100 metri allo stacco E in partenza difende la corda il numero 1 Poeta Scò, al suo esterno il 4 Peter Panalca che ripiega E poi Pier Grif rompe Poeta Scò, quindi Pier Grif che passa a condurre dopo un lancio veloce in 13.1 Il leader della corsa su Poeta Scò, poi il numero 3 di Vitti Foto SM a precedere Piveressa Jet 2 Che ha colto un'ottima partenza e sposta subito all'esterno per non lasciarsi coprire Chiude i primi 400 in 29.2 con una frazione in 16.1 Pier Grif, Vincenzo Luongo avanza all'esterno, subito Pelé Del Pino che va deciso all'esterno del leader Che sembra lasciarla andare, 600 metri passati in 45.9, 16.7 la frazione Pelé Del Pino nuovo leader su Pier Grif all'esterno Piveressa Jet, poi il Giambito Lombroso in corda con Peter Panalca L'errore per Mauro Angeletti Numero 14 squalificato Cavalli che avanzano L'errore improvviso da parte di Pelé Del Pino Lascia in vantaggio Piveressa Jet Sul numero 7 Pier Grif, poi Peter Panalca Ancora segue Pitti Foto SM Cavalli che dopo aver chiuso il chilometro di 1.15.5 vanno all'attacco della curva conclusiva Frazione in 15.3 con Piveressa Jet che sembra padrone della situazione Su Pier Grif sposta Peter Panalca Ingresso in retta d'arrivo con Piveressa Che cerca di staccare da Pier Grif Che battaglia con Peter Panalca per il secondo posto E vince in scioltezza Allunga Piveressa Jet richiesta No, errore, errore Ai 50 conclusivi per Piveressa Jet Che probabilmente compromette la corsa Il secondo posto per il numero 3 Pitti Foto SM Poi al terzo Probabilmente il 9 di Prato di Stelle E' successo l'imponderabile Con Piveressa Jet che ha 50 dal traguardo Ha confuso l'andatura Andiamo a rivedere le immagini Ecco, primo piano proprio sull'allieva di Vincenzo Tufano E Peppe Pistone E' molto difficile Non semplice da valutare Di sicuro si scompone Non so se apre il trotto C'è materiale senza dubbio per la giuria E' più decide E' più